Ciao a tutti ragazzi, sono Carly e questo è ovviamente Cimia e benvenuti in questo nuovissimo video di Jogessere Siamo qua con il mio ragazzo detto anche Kendall, detto anche colui che osserva Eh, l'ultima volta ti ho stracciato, l'ultima volta ovvero 5 secondi fa È vero, sì perché stiamo registrando Per chi non lo sapesse, lo ripeto, Jogessere è questo gioco in cui veniamo posizionati in un punto qualsiasi nella mappa del mondo E dobbiamo indovinare, guardando un po' di cartelli, un po' in giro, dove siamo Allora Carly, ho impostato la difficoltà posti famosi, quindi non saremo tipo sponate all'interno di una campagna Ma ci sarà qualche monumento o qualche cosa di comunque conosciuto Benissimo, allora ripeto quello che ho detto nel video precedente, io sono ignorantissima in geografia Dove? No, non ci posso credere, dove siamo? Cos'è tutta questa gente? Cioè, so, so, so dove siamo È il Tibet! Sì, ciao, ma non so dove è nella mappa, è la Mecca È la Mecca, ma vi immaginate, scusate il signore di Google Maps Ma infatti, ma come cavolo ha fatto il signore di Google Maps a entrare qua dentro? È bello che nessuno quello sta guardando Oh mio Dio, ma io non so dove è nella mappa, sono ignorantissimo Ah Eh, beh, non ci posso neanche spostare È in Marocco, perdonatemi, non lo so Sai che anch'io avrei detto Marocco Però queste persone... Cioè, siamo sicuri che i marocchini si mettono così, questi abiti sotto la spalla? Non lo so No, secondo me non è in Marocco Cosa proponi? Non lo so, tipo... La rabbia? Può essere Ma in che posto? Vediamo, allora Ah, c'è scritto! Dove? L'ho trovato Ok, devo cercare di avvicinarmi il più possibile Ma dove? Che la qualità è orrenda di sta posto Cioè, si chiama proprio così il posto Solo che devo cercare di entrare proprio... Il tizio che tiene la... Come si chiama? La grande moschea l'ho trovata Oh mio Dio Aspetta, aspetta Io ho trovato la città, Micca Io ho proprio trovato la grande moschea Cioè, proprio il punto esatto, il centro Hai un minuto di tempo Perché mi devi sempre mettere fretta? Oh, ho aumentato il tempo a un minuto Comunque è pazzesco che siamo spawnati qua dentro E io non so se trovo... Ah, Micca, Micca Ok, la città Città, città E dove sarà? Io credo di aver sbagliato al massimo di tipo due metri Poi magari abbiamo sbagliato tutto Non è la Mecca No, è la Mecca, dai È la Mecca, sicuro E... Come si chiama il posto? Eh... La stazione? Non è la stazione, Carli! Boh, io la caccio qua Io sono dentro proprio Quindi la vinco io, secondo me Eh, io non sono dentro Si chiama The Great Mosque La grande moschea Dovrebbe essere questa Sono sicuro che è questo Che la grande moschea Vuoi che ce ne sia un'altra? Senti, io sbaglierò di... Di 4 chilometri No! Ci sono andata più vicino a io Io sono andato... Non ci credo Ho sbagliato io No, chissà dove siamo qua Ho sbagliato di 200 metri Cioè, mi hai battuto Io pensavo di aver ragione Invece no Qua è difficile Piazza del Colosseo Qua è proprio difficile Secondo me siamo a Milano Non è Pisa questa? Sì, sì Ora bisogna soltanto Cercare di capire L'angolatura giusta La garbatella Pento dei bicchieri Sono i daglieri Aspetta, aspetta Dove siamo? Voglio capire esattamente Credo Che ci troviamo tipo qua Via Celi o Vibenna Forse Oh, dai Carli Sì, 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 sì Adesso sono io che ti metto l'ansia Allora, io voglio prendere il punto esatto Siamo dietro al parco, vero? Sì, io sono Forse era anche un po' più in qua Io mi sa che sono qua No, non ci credo Guarda la mia distanza Dieci metri Carli, dieci metri Eh, vabbè, sì Io ho sognato di pochissimo No, perché io ho calcolato Oh mio Dio Cos'è il macio No, allora cos'è? Uno zigurat, tipo Oddio, io non me le ricordo Se cose Io non le so È passato troppo tempo Credo Ma io non Non è uno zigurat? Che cos'è? Non so, le caramelle E le zigurat Ma che cavolo si dice? No, non è E forse sì, è uno zigurat Eh, io Guarda questo che fa le foto Così tutto Io provo a sparare, eh Perché sinceramente non lo so Perdonate la mia ignoranza Eh, boh Tiro a indovinare Eh, ma guarda qua che fanno un buffet Un picnic Cos'è qua? Vabbè, Carli Ok, io tiro a indovinare Ho dato Piatti o picnic? Cos'è che vendono? Ma guarda che fanno tutte le tavolate Comunque bellissimo Cioè, posso dire Hai già indovinato? No, cioè Non ne so Non credo proprio sia lì Però, boh Ma io non so dove sia Eh, ma io pure ho sparato America del Sud Eh, boh Per me è tipo qualche posto Sicuro nei commenti ci blasteranno Tutti a dire Ma come fate a non sapere cos'è? Sì, sì, sì Ragazzi, mi chiediamo scusa Io metto che è un posto in Peru Perché non ho la più palida idea di cosa sia Oh mio Dio So che sono l'ignorante Forse ci sei andata più vicino di me con Peru Dici? Forse sì No! E vai! Ok Io ho mille chilometri Non male Eh, no Qua c'è proprio una di quelle che devi riconoscere Solo che io non la riconosco Allora, io guardando la bandiera Riesco a intravedere dei colori E credo di aver capito che colori sono Ah, ma anch'io Ok, ok Però non so la città Potrebbe essere la Spagna? Secondo me è la Spagna Ma non so Forse Madrid Guarda questo che c'è tutto lo spazio Sembra vicino al mare però C'è un botto di sole Non credo sia Barcellona Perché non ne ho mai sentito parlare Lo caccio nel centro di Madrid, ragazzi Dici che è Madrid? Io avrei detto qualcosa più vicino al mare Però non lo so Ma se Non Era Madrid Non ci posso credere C'è la A due chilometri Due chilometri Non ci Ho perso Signore, ho già vinto? No, no La rifacciamo Dai, un'altra Però metto tipo mille di vita Quindi chi subito si perde o si muore Vai Eh, ma sei tremendo, eh Eh sì Bene, si inizia Centro di medicina complementaria a Macaes Allora, anche qua mi sembra che siamo in Sud America, no? Wow Néstor Cosa te l'ha fatto capire? Che intuito Non lo so Ma magari poteva essere una città sperduta della Spagna, no? Ma amore, in Spagna non sono così le città Cioè Ma poi guarda anche quelle montagne Con le case costruite sulle montagne Asta è il 2013 C'è il tuk-tuk Qua siamo tipo a Cuba Dove siamo? No, a Cuba no Perché? Perché non è fatta così Cuba Vabbè, ma mica hai visto tutte le città di Cuba tu, scusa No, però Non che io Cioè, che io ricordi non era fatta così Che bandiera è questa? Municipalidad Districtal del Rimac Siamo in Rimac Rimac? Lima Rimac Ho capito dove siamo C'è proprio scritto E sicuramente non è Cuba Lo Stato che c'è scritto Però non parlano questa lingua Non ci posso credere che parlano questa lingua Deve essere qualche Tipo qualche isolotto No, no Non te lo dico perché se no indovini Cioè, potresti avvicinarti Dai Dai No, vado Aiutami No, voglio vincere Per favore Sei il diavolo Allora Prova a indovinare Io ho trovato un cartello con scritto proprio lo Stato degli Stati Uniti Non so se è quello Se ne esiste un'altra Non lo so Un'isola chiamata nello stesso modo Ne dubito Lo piazzo qua È piazzato? Sì È in Peru Mi sono avvicinato Tu sei più vicina Ma perché c'era un cartello con scritto Florida De Lima E quindi ho detto Boh, mi sembra sta Ho perso di nuovo Oh, questa volta ti sto battendo alla grande Maledizione Questa è fantastica Le sto vincendo tutte, ragazzi Si fa l'ultima Va bene Chi vince questa vince tutto Esatto Però cambio No, vabbè Considerano anche le vittorie di prima, ovviamente Però stavolta metto solo Italia No Sì Io sono ignorantissima in Italia Eh, oh Se ti capita il nord hai più possibilità di indovinare Se capita il sud ce ne ho di più io Ok Uh, penso di aver capito già Ma come hai già capito? Eh sì Oh, ma guarda Guarda le case Guarda Guarda il paesaggio Si capisce Senti qua Sembriamo nei paesini attorno a Bologna Ma che stai dicendo? Quei campi Fermata Sai che in realtà potrebbe anche essere l'Emilia? Le case effettivamente sembrano tipo quei Quei casolari emiliani Aspetta, ci sono delle montagne Inlevate Ci sono i classici ciclisti qua Però sono molto coperti, sai, ciclisti E ci sono le montagne Quindi per me Montagne con la neve addirittura Esatto Con la neve Quindi qua Mi sa che Ah, aspetta che c'è un vecchio Vediamo C'è un vecchio L'umarel Eccolo qua C'è un vecchio Che sta coltivando Io penso di aver capito Dove siamo Anche io Dillo tu E poi dico io Aspetta però Non so la città Sto dicendo lo stato C'è La regione Sì, sì Per me siamo qua Ok, dillo Io ormai Mi sono fatto un'idea Siamo in Veneto Secondo me Nel Vicentino Io avrei detto Bassano del Grappa Tipo zona campagna Più o meno Per me siamo nel Vicentino Ok Oh Esattamente a metà Tu 21 Io 22 Ho trovato un cartello Con scritto Vicentino Non è possibile Pareggio 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 Ma manco a farla apposta Ma anche qua Sembriamo Cioè Attorno a Bologna No, no, no Aspetta Sembra il mio paesino Questo È sicuro il nord Italia Perché c'è tanto verde Sì, sì Qua per me Siamo anche in zona Emilia Dici No Per me sì Guarda che ti dimentichi Di tante regioni Non pensare che esista Solo l'Emilia Eh, però Mi sa proprio Di paesini Dietro qua a Bologna Mazza Ma c'è una foresta Tutta gialla qua Ma dove siamo Foresta gialla Guarda Qua c'è un casolare Con le mucche Oh, oh, oh No, hai trovato Ma dov'è Aspetta, forse Il cartello dopo Ah, più avanti C'è una città però Ok Ci sono Non so dove siamo Ma che stai dicendo Sì Quindi è nord Italia Se sai dove siamo È nord Italia sicuro Sì, sì Allora, siamo in pienura A padana Sicuro Che ha iniziato La nebbia Un po' più avanti È pieno di nebbia E non si vede nulla Aspetta Eh, eccolo C'è un vecchietto Qua, guarda Via Gianni Rodari La città precisa Non la trovo Adesso io la caccio qua Sarà tipo Un po' qua Fuori Aspetta che ho trovato Un cartello dell'edilizia Vediamo Vediamo Ok Ci sono andata Più vicino io Aspetta Ma non era l'Odi Eh, ho trovato un cartello Che ha scritto l'Odi Eh, non era l'Odi Per nulla Era più vicino a Ferrara Era più in là Va bene Sarà stato il nome Di qualcos'altro E che è sto posto Bellissimo Dove siamo? Sembravamo in Brasile? Giorgio Slash Giuseppe Ma Sembravamo in Brasile Ma cos'è tutto sto verde? No, adesso Ora c'è scritto Giorgio Slash Giuseppe Quindi non siamo in Brasile Potrebbe essere Quella città Che dico io Perché comunque È vicino al mare È un casino Camminare in questa città C'è un numero di telefono Ora lo chiamo Eh, no Io invece ho trovato Ma sì Ma non so Dove sia Cioè Allora Se siamo in Sicilia Io credo di essere In questa città Però potrebbe anche essere Un'altra regione Lo vuoi dire? No Trovato Siamo sicuro in Sicilia Siamo in Sicilia Vero? Dai almeno questo Me lo puoi dire Carly No, non siamo in Sicilia Non è vero Non siamo in Sicilia Io pensavo fosse tipo Ragusa No, no Non siamo in Sicilia Ok, se non siamo in Sicilia Siamo in Calabria E guarda Ti metto anche La strada giusta Sì Dai Guarda come se la tira Siamo in Calabria Corigliano No Doveva essere qua Corigliano 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 Cavolo Era qua Voglio cambiare No Ho sbagliato Di pochissimo Ma ho sbagliato Io non ho idea Di dove siamo Corigliano Non l'ho mai sentito Avrei dovuto cercarlo Vabbè dai Però ci sono andata Molto vicino Corigliano Non ci credo Lo sapevo Che era la Calabria Guarda che io avevo sbagliato Di pochissimo Io ho trovato proprio Il cartello Con scritto Corigliano Corigliano E SP187 Con la strada precisa Ma non l'avevo trovata Vabbè Ho perso Ragazzi Sono stata bravissima Brava Carly Sono fierissima Della mia ignoranza in geografia Che questa volta Però mi ha salvata Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Da Carly Che Carly e Cibi È tutto E noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ciao Ciao